La San Cataldese torna a faticare dopo l'entusiasmante vittoria sul Catania. Archiviato il turno preliminare di Coppa Italia, domenica la squadra di Matteo Bullo sarà impegnata nel primo turno della stessa competizione contro il Paternò. Un altro impegno insidioso per i Verdi Amaranto, che vogliono proseguire a suon di vittorie il cammino verso l'inizio del campionato di Serie D, previsto il 18 settembre. Due settimane dopo rispetto alle altre squadre degli altri gironi, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Direttanti ha ufficializzato la composizione dei nove gironi del campionato di Serie D e ha pubblicato otto dei calendari previsti, sospendendo quello del Girone I, in attesa di una decisione definitiva sul Giarre, società ammessa con riserva in virtù del decreto del Tar Lazio, salvo ogni ulteriore successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale. Compongono il Girone anche Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Sant'Agata, Cittanova, Trapani, La Mezzia Terme, Licata, Locri, Paternò, Santa Maria, Cilento, Ragusa, Realaversa, San Luca, Mariglianese e Vibbonese. Diverse le società blasonate che rendono il Girone una sorta di Serie C2, non solo il Catania, che tra le pretendenti alla vittoria finale, anche Acireale, Trapani, Licata e Ragusa possono annoverarsi tra le piazze più prestigiose del calcio siciliano. Grazie. Grazie. Grazie.